Sono un mix di avvenimenti, di errori e di problemi, di felici intenzioni e di decisioni non facili. Alla fine è stata comunque Serie B, un traguardo assolutamente non facile e centrato al primo tentativo. Un patrimonio importante da difendere in un prossimo campionato dove le avversarie si chiameranno Cagliari, Torino, Genoa, Terugia. E Ancona dopo un primo impatto all'Olimpico con le spene del trionfo che ricordano Bologna e dopo un primo composto e moderato a festeggiamento del...